Cultura Italia Cultura Italia Cultura Italia Cultura Italia è un progetto promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali è basato sulla collaborazione aperta a tutte le istituzioni culturali pubbliche e private alle regioni, alle università, alle biblioteche, agli archivi e ai musei Cultura Italia cresce insieme con tutti coloro che vi aderiscono Cultura Italia si inserisce nel dibattito europeo e internazionale sull'accesso in rete del patrimonio culturale per tutti i cittadini è in linea con Michel, il portale del Ministero che fornisce un accesso multilingue alle collezioni digitali culturali europee Cultura Italia offre l'accesso a dati e informazioni sul patrimonio culturale italiano fornendo agli utenti risorse culturali provenienti da banche dati esterne di vario tipo e contenuto approfondimenti focus, notizie, eventi e informazioni di servizio una guida ragionata ai siti web culturali italiani file audio, video, multimediali Cultura Italia offre informazioni su più livelli di approfondimento sempre centrate sui bisogni dell'utente si rivolge a un pubblico diversificato per formazione, interessi, nazionalità e età uno strumento a disposizione di tutti i cittadini Cultura Italia permette all'utente di usare vari strumenti o canali di accesso per ricercare e trovare le informazioni l'indice dei metadati per consultare le informazioni attraverso le coordinate chi, cosa, dove, quando la ricerca semplice o avanzata per parole chiave la navigazione per temi la consultazione su mappa dei dati localizzati sul territorio Aderire a Cultura Italia favorisce la visibilità e promuove la diffusione dei contenuti culturali in rete possono aderire soggetti pubblici e privati l'adesione non comporta la duplicazione dei dati i diritti di proprietà intellettuale sui dati rimangono inalterati È possibile aderire a Cultura Italia attraverso due modalità Le banche dati culturali sono la maggiore fonte di arricchimento di contenuti per Cultura Italia Il fornitore di contenuti può aderire rendendo disponibili le informazioni che descrivono le effettive risorse della banca dati È possibile aderire anche rendendo disponibili in formato feed RSS informazioni su notizie e eventi Tramite la funzione segnala al portale Chiunque può segnalare a Cultura Italia risorse della rete come siti web, file multimediali, documenti di testo Iscriviti al nostro canale Grazie a tutti.